Che cos'è il federalismo? Parlando della scuola, due allievi provenienti da cantoni diversi si accorgono immediatamente che ci sono delle differenze. Uno ha iniziato con il francese in terza elementare, l'altro in quinta. Uno ha fatto quattro anni di scuola media, l'altro solo tre. Ogni cantone ha quindi un sistema scolastico diverso. Queste differenze sono una conseguenza del federalismo. Federalismo significa che la responsabilità è ripartita su tre livelli statali, formati da Confederazione, cantoni e comuni. Tutti e tre hanno propri settori di responsabilità, nei quali svolgono i compiti in modo autonomo. Alcuni compiti, invece, vengono svolti insieme da Confederazione, cantoni e comuni. In generale, alla Confederazione, spettano solo i compiti che devono essere regolamentati in modo uniforme su scala nazionale, ad esempio, l'esercito e la moneta. Tutti i compiti della Confederazione sono elencati nella Costituzione federale, che deve essere approvata sia dal popolo, sia dai cantoni. Ciò significa che i cantoni possono dire la loro sui compiti assegnati dalla Confederazione. I 26 cantoni formano il secondo livello statale. Questi godono di un'ampia autonomia e possono anche emanare leggi. Ad esempio, i cantoni sono responsabili per quanto concerne la polizia e il sistema scolastico. Tuttavia, devono attenersi a determinate regole, come quella sancita dalla Costituzione federale, secondo cui l'istruzione elementare è obbligatoria e gratuita nelle scuole pubbliche. Il terzo livello statale è composto dai comuni. Ogni comune appartiene a uno dei 26 cantoni. Poiché ogni cantone può stabilire le mansioni dei propri comuni, queste variano da un cantone all'altro. In linea di massima, i comuni sono responsabili dell'organizzazione nella propria località, ad esempio la costruzione di un nuovo edificio scolastico o l'approvvigionamento idrico. Per i sostenitori di un federalismo forte, è importante che le decisioni vengano prese dalle persone direttamente interessate. Inoltre, il federalismo promuove la creazione di idee innovative. Vale a dire, se un comune o cantone adotta con successo un metodo nuovo per svolgere un determinato compito, altri possono fare tesoro della sua esperienza. Gli oppositori criticano il fatto che lo stesso compito venga risolto in modo diverso da cantone a cantone. L'insegnamento delle lingue straniere o l'importo delle borse di studio sono solo alcuni esempi delle differenze delle decisioni tra i cantoni. Qual è la tua opinione a riguardo? Discutine con i tuoi amici e vai su www.easyvote.ch per informarti su altri temi di attualità politica. Su Vicky Federalismo della Fondazione CH puoi inoltre scrivere un articolo sul sistema politico del tuo comune.